Le immagini che state vedendo sono delle opere esposte nelle sale del Bramante a Piazza del Popolo della mostra Cento Presepi, ma a Ricchi Memphis vorrei far vedere il presepe in stile romano, un presepe che rappresenta l'arco di Dorabella dell'Ottocento, che è ormai una parte di Roma sparita. Le figure presepiali, che si chiamano pastori, sono in stile napoletano 700 e sono realizzate con tessuti molto preziosi della fabbrica di San Leucio, testa, mani e piedi in terracotta, gli occhi in vetro. Molto interessanti sono i particolari, per esempio all'interno delle case possiamo vedere la carta da parati, il tavolo, tutto quanto ciò che riguarda la vita quotidiana. Alla mostra Cento Presepi non si vedono solamente i presepi, ma si realizzano nel laboratorio Il Presepe è come gioco, dove insegniamo ai bambini a realizzare le figure presepiali. Prendiamo il foglio azzurro e il foglio bianco e li sovrapponiamo mettendo il foglio bianco sopra. Mettiamo il foglio mutato, col bianco verso dentro. Auguri di Buon Natale, un felice anno in più Quest'anno abbiamo scelto la tecnica degli origami, dove creiamo Maria, Giuseppe, Gesù, tutti i personaggi, perché abbiamo deciso di unire tutte le culture, oltre alla nostra cultura tradizionale. Arrivati a questo punto, con l'indice, prendiamo e lo saliamo su. Buon piccolo Natale, buon piccolo Natale, è un grande anno in più Lo scopo del laboratorio è quello non solo di far realizzare la figura presepiale al bambino, ma quello di farglielo portare a casa e così stimolare tutta la famiglia alla realizzazione del presepe nelle proprie case. Un modo anche questo per far tornare il presepe protagonista nelle nostre famiglie. Grazie a tutti!